Stefano Candra è un amico del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana, l'anno scorso presente in compagnia di Marco Barmas, quest'anno in compagnia di Lorenzo Gariano, ma Stefano Candra è comunque un alpinista, ha scalato qualcosa come 41-4 mila, la metà esatta di tutti quelli riconosciuti dell'arco alpino che sono 82. È un bel biglietto da visita per chi vuole parlare di montagna, montagna per te che cos'è? Ultimamente è diventata l'occupazione principale, anche perché ho recentemente lasciato il mondo del lavoro per dedicarmi, prevalentemente anche alla famiglia perché ovviamente c'è anche quella e poi per coltivare con maggiore serenità e tranquillità questa grande passione che è appunto la montagna e soprattutto quella del magico mondo dei 4 mila. Senti, accompagnarti con amici, i nomi li abbiamo appena fatti, per te che cos'è? Credo una soddisfazione anche poter condividere con persone come queste le tue esperienze. Ma certamente, tu hai fatto due nomi, Marco Barmas e Lorenzo Gariano, parliamo di due grandi amici, ma anche di due grandi appassionati e grandi interpreti della montagna. Marco Barmas per me è stato qualcosa di straordinario, è colui che mi ha praticamente avviato al percorso in alta quota e con lui lo sto proseguendo da 10 anni, ho festeggiato quest'anno il decennale del mio primo 4 mila scalato nel 2007 proprio con Marco. Abbiamo iniziato questa stagione con le Guildebion A6 che abbiamo scalato esattamente il 22 giugno scorso e mi ha permesso di raggiungere quota 41, adesso speriamo di compiere un passo ancora successivo in questa estate piena di impegni. Lorenzo Gariano, hai detto benissimo tu, un grande amico anche lui e anche con lui curiosamente sono 10 anni che ci conosciamo, siamo legati da grande amicizia, da grande stima e da grande passione per la montagna che condividiamo, anche senza fare grandi cose, perché ad esempio quando andiamo sulle nostre Alpi Liguri dove lo stesso Lorenzo ha ideato il Seven Summit Challenge che è un challenge ormai consolidato nel tempo, la possibilità di camminare in luoghi relativamente vicini al mare e nello stesso tempo alle grandi montagne, sempre su una quota interessante come quella di 2.500 metri dove si può trovare sempre grande soddisfazione e libertà dello spirito. Grazie. Grazie.